Dico solo una cosa, occhio a quello che si pensa, perché i fatti poi vengono a galla a fine, che io sono sempre stato un po' quello che ho visto, ma non che lei, però occhio ragazzi, perché qua mi è mandato sempre nel puttaniere, quando poi a me mi avete visto alla fine che il zoccone è sempre solo come un coglione. Ehi piccola, ti ricordo che mi trovi in live sulla piattaforma Viola dalle 21.30 dal lunedì al venerdì. Passa di lì se vuoi goderti lo show e se mi vuoi supportare fai anche una soap. Ti ricordo che con Amazon Prime è gratuita. Baby you light up my world like nobody else. E non l'ho vista bene, fammi vedere. Giardino dopo il doc si sta facendo tutta la playlist di TikTok. Che devi vedere Ale, basta, che devi vedere, l'abbiamo già visto, non puoi che coglione. Io ora posso dire una cosa. Minchia, doccone, due neppolini. Ma obiettivamente, ma io, cosa devo dire? Sono contentissimo per lei, mi fa strapiacere. E perché lì? Il nano. No, perché... Perché mi fa piacere che... Ne abbia cambiato, cioè, non cambiato un altro, nel senso... Mi fa piacere che... No, dai. Mi fa... No, no, no. Diciamo che sei contento per lei, ecco. Vabbè, diciamo, doc, già dai, lì mette il ridicolo che ne cambia uno al mese, abbiamo capito, questo è il tuo pensiero. No, va bene. Dico solo una cosa, occhio a quello che si pensa, perché i fatti poi vengono a galla a fine, che io sono sempre stato... Un po' quello che ho visto, ma... Ma non che lei, però occhio, ragazzi, perché qua a me mi ha andato sempre nel puttaniere. Quando poi a me, ma avete visto alla fine che il doccone è sempre solo come un coglione... Alla fine contano i fatti, eh, nella vita, non contano le chiacchiere. Perché le chiacchiere ci credi finché non vedi fatti. Quando poi vedi i fatti, capisci che... Sì, scusa. Io sono tutto chiacchiere, però poi passo dal coglionazzo. Invece c'è gente, magari, non... Ma Boccavel, te ne ho capito il ragionamento, Flavio. Ma dove ti stai grampicando? Ma che montagna stai scalando? Te lo spiego, ti spiega già per te il doc. Non sto parlando la montagna. Te lo spiego, praticamente, quando lo stava con Giada, si diceva che lui fosse il puttaniere e che si faceva tutte queste donne. Ma in verità, lui non è un puttaniere, anzi, è sempre lui il... Se è da solo... Ma se tu ce ne avessi una parata al giorno, non te ne scopresti una al giorno? No. Ma è fricante. Lo sai molto bene che... Vabbè, no, 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 è brutto da dire. Però hai capito. Eh no, ma perché è brutto da dire, perché altro è falso da dire. È falso da dire. Allora, dimostralo. Fai parlare i fatti, poi... No, perché non mi interessa, non è un mio requisito. Questa volta me ne chiamo una al giorno e me ne scopo tutti i giorni una diversa. Dai, questa volta, però, proviamo. Dai, voglio provare anch'io. Allora, facciamo così, comincia... Fatti già la schedula. Allora, Federica... Siamo dalla F, però, dalla lettera F. Eh, bravo. Inizia, non lo so, eh... Flavia? No, comunque voglio dire una cosa. A parte tutto, sto scherzando, sono contentissimo per lei. Dai, non me ne frega un cazzo, chiaro e tondo. Non me ne frega un cazzo di voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Grazie.